Cosa mangia Ronaldo ogni giorno per mantenersi così in forma? Un suo ex compagno di squadra alla Juventus ha rivelato che Ronaldo mangia praticamente sempre la stessa cosa. Broccoli, pollo e riso. Ma il ragazzo ha circa il 7% di grasso corporeo, ovvero il 3% in meno rispetto alla media dei giocatori di calcio. Ma Ronaldo non è un robot e quindi anche lui a volte pecca. Ma non da solo. Una volta ha detto che di tanto in tanto si concede una pizza con suo figlio. Ma dopo probabilmente va subito in palestra per smaltire le calorie. Insomma, stiamo sempre parlando di Ronaldo.